Musica Bentornati a Talk Sicilia La puntata di oggi l'avremmo voluta intitolare Game Over Riprendendo in prestito il titolo che Giacomo Di Girolamo ha dato a uno dei suoi articoli per raccontare la fine della cosa nostra stragista targata Corleone fine che è certificata dalla cattura di Matteo Messina Denaro avvenuta grazie all'azione della procura di Palermo coordinata da Paolo Guido e dal procuratore della Repubblica Maurizio De Lucia con l'intervento di vari settori dell'arma dei carabinieri ovviamente per parlare di Messina Denaro ci rivolgiamo a un giornalista che ha dedicato tutta la sua vita a ricostruire, a tracciare, a scovare indizi su relazioni occulte, meno occulte, a vari livelli delle connessioni che reggevano le sorti della famiglia mafiosa di Castelvetrano benvenuto quindi a Giacomo Di Girolamo ciao Giacomo siamo colleghi quindi il tuo è obbligatorio è inutile che ci trinceriamo dietro a lei formale perché si perde un sacco di tempo mi saluto grazie dell'invito peraltro tu sei la seconda volta che vieni a Torco Sicilia proprio pochi mesi fa ed è venuto da noi a presentare con il nostro bravo Ignazio Marchese il tuo saggio su Messina Denaro Matteo va alla guerra ora invece Matteo va in prigione lo facciamo il prossimo volume cosa raccontiamo? la prigionia dorata no ma in realtà ma in realtà insieme ieri sera pensavo che il prossimo volume dovrebbe essere Matteo Valcatasto perché qua ogni 6-7 ore si scopre un cuore nuovo quindi insomma Matteo Valcatasto ma ieri mi è arrivata una battuta da un collega del nord che delle cose di mafia non ne capisce tanto bene dice Scoop è l'ultima ora in realtà si scopre che Matteo Messina Denaro era il prestanobi di Andrea Bonafede il vero capo mafia cioè hanno fatto una confusione gigantesca però diciamo in realtà dietro questa apparente confusione gigantesca c'è un disegno criminale molto preciso non ci prendiamo in giro no certo c'è una storia criminale importante e terribile negli ultimi anni diventata assurta una dimensione quasi mitica che per fortuna con questo arresto insomma volge al termine già era una storia al tramonto ma insomma questa operazione è un colpo mortale per Messina Denaro per la sua famiglia per la mafia del Belice Trapanese e per Cosa Nostra probabilmente sono tagliati i legami con quella che era la mafia corleonese ora che tipo di mafia secondo te potrebbe prendere il sopravvento in Sicilia a livello internazionale perché non dimentichiamo che ormai le interconnessioni del crimine sono globali non esiste più una mafia locale che non abbia connessioni con altri sistemi operativi del settore criminale la mafia corleonese la mafia di Messina Denaro era una mafia dicevo poco fa al tramonto lui è un boss è l'ultimo boss di una stagione all'interno di Cosa Nostra che va alla sconfitta anche perché lo Stato negli ultimi anni li ha letteralmente massacrati questo dobbiamo assolutamente io ricordo una battuta ai tempi scusa Giacomo ricordo una battuta ai tempi quando l'Inare era capo della squadra mobile di Trapani una battuta dei fiavoreggiatori di Messina Denaro dissero al telefono parlando tra di loro qui stanno arrestando pure le sedie quindi come dire è stata un'azione proprio un carro armato che si è mostro contro questa cosca per decimarla decine e decine di inchieste e poi però la svolta dopo 30 anni questo diciamo sembrerebbe quasi una parziale sconfitta a parte dello Stato aver impiegato così tanto tempo ma questo in realtà forse non significa che ci sono pezzi della borghesia che hanno dato talmente risorse alla mafia da non consentire la cattura in questi giorni anche sulla scorta di quanto ha detto dell'uscire in conferenza stampa ci sono tanti che si affastellano a fare analisi sulla cosiddetta borghesia mafiosa sulle complicità di Messina Denaro della mafia in generale però se noi guardiamo il fenomeno criminale da vicino e la storia della mafia in questi 150 anni io penso che la borghesia mafiosa non esiste perché la mafia è borghesia mafiosa cioè l'errore di interpretazione che si fa sempre in merito alle cose di mafia errori se ne fanno tanti e devo dire anche perché soprattutto in questi giorni tu sarai d'accordo con me c'è gente che racconta la Sicilia provincia di Trapani senza che mai l'ha vista con il binocolo è come se a me qualcuno mi chiedesse di parlare della famiglia nuvoletta o di scampia o di cosa si muove intorno alla sacra coronita lo posso dire per quello che leggo nel giornale non certo per in base alla mia esperienza ecco se invece valutiamo le cose con gli occhi di con l'intelligenza di chi è nelle cose la mafia è borghesia mafiosa nel senso che l'equivo che si fa dicevo è sempre quello di narrare le cose di mafia come no copole, pizzine, lupare eccetera eccetera no canazze di bancata che però hanno queste eminenze grigie che le aiutano non è così cioè la mafia è borghesia mafiosa perché la mafia da sempre è stata una mafia di relazione di potere la mafia è essenzialmente violenza di relazione ma lo è stato da sempre la parentesi corlionese è una parentesi terrorista ma è una parentesi di una storia lunga 150 anni che è fatta naturalmente di complicità cioè anche rispetto al tema assolutamente divisivo della trattativa stato mafia che fa capolino anche in queste ore a proposito di possibili trattativa alla base dell'arresto di investire a denaro la mafia ha sempre trattato con lo stato e con i poteri perché la definizione di mafia quando nel fino ottocento vengono franchetti e solnino due giovani senatori del regno d'Italia della destra fiorentini e vengono mandati in Sicilia in provincia di Trapani in Palermo a contare la situazione della Sicilia e si imbattono nella mafia nella mafia e loro danno una definizione che ancora oggi secondo me è insuperata di fascino rossi della classe media cioè loro non dicono quattro pastori con dei fucili non dicono è la lega dei peracottari dicono fascino rossi della classe media cioè in questo modo individuandoli quando Luigi Sturzo mette in scena a teatro che tempiera la televisione non era come la televisione di oggi il suo spettacolo sulla mafia la mafia è romana per Sturzo ma lo è stato sempre nell'analisi che abbiamo fatto tutti cioè l'idea che noi abbiamo è di Provenzano che viene preso a Montagna di Cavalli con la ricotta la cincuola l'italiano ma Provenzano si potrebbe chiamare ingegnere lo vede frequentava i saluti della Palermo bene in Messina Scusami Giacomo se ti interrompo sempre che ci sia una Palermo bene perché in realtà io condivido la tua analisi perché in realtà ti porta in realtà a dare delle risposte più concrete a quello che sta succedendo a come noi viviamo quotidianamente la Sicilia però diciamo a questo punto non c'è la responsabilità da parte dei grandi medi nazionali di avere creato una sorta di distorsione ottica cioè puntando tutto sulla mafia militare e non assecondando come dire quella che era in realtà la realtà territoriale di una borghesia che si era fatta a potere occulto tramite le connessioni con la massoneria tramite alleanze empie con pezzi deviati dello Stato non siamo anche noi un po' responsabili non te personalmente chiaramente non c'è un fenomeno di distorsione sono orgoglioso in queste ore di essermi negli anni portato avanti con il lavoro per cui ti posso interrompere un attimo perché è la cosa più divertente che ha fatto Giacomo nella sua è molto giovane Giacomo ha tantissima esperienza ma già credo che sia da più di vent'anni che lavora su Messina Denaro poi magari mi correggerai sulle date ma lui ogni mattina Giacomo dirige TP24 e dirige anche RMC101 che è la radio più seguita probabilmente nella Sicilia occidentale e ogni mattina per tanti anni lui si svegliava con una sorta di bollettino dove sei Matteo Messina Denaro sei stato una spina nel fianco raccontando come dire una sorta di tutta la mafia minuto per minuto una cosa quasi come dire quasi angosciante hai messo sotto pressione un po' tutti noi con questa con questa cioè hai costretto i giornalisti a inseguirti sul campo di Messina sì tant'è che all'inizio eravamo pochi possiamo diventare tanti a un certo punto visto che eravamo troppi nel senso che poi negli ultimi tempi come me che ha Messina Denaro era direttato un brand che favoriva inchiste farlocche sia giudiziari che giornalisti che ha politici ha imprenditori presunte vittime eccetera eccetera favoriva il brand Messina Denaro una facile carriera e visibilità basti pensare a tutti i pentiti tra virgolette che negli ultimi anni per darsi tono hanno cominciato faccio un esempio però facciamo facciamo un esempio però perché mi pare che tu stia facendo un riferimento chiaro una vicenda che riguarda un ingegnere poi condannato per calunnia se non sbaglio ma l'architetto Tuzzolino sì ci pensavo mentre a Parapa ce ne sono diversi ce ne sono diversi e Tuzzolino era uno di quelli che addirittura diceva che Messina Denaro era credo a capo della loggia Sicilia o che addirittura fece partire da New York per cercare questo come a un certo punto si è perso un po' con la bussola diciamo in questi 30 anni Messina Denaro per anni non è stato cercato per anni è stato cercato male ultimamente è stato cercato bene e i frutti si vedono allora dicevo io mi sono portato avanti con il lavoro perché tempo fa scrisse questo libro che si chiama cosa grigia ho avuto grande fortuna grande fortuna per i due o tre che in Italia leggono libri perché io ce l'ho questo libro a casa non levo hai visto bravo questo libro in realtà nasce anni fa dalla mia domanda cosa succede alla mafia quando prendono Messina Denaro quindi qua io ho tutte le risposte quindi ce lo andiamo a rileggere oggi però comunque al di là di questo cioè Messina Denaro ha rappresentato anche dal punto di vista imprenditoriale tutta una serie di sistemi molto importanti stamattina sapendo di incontrarti mi sono riguardato il fascicolo che riguarda Carmelo Patti e la Valtur Carmelo Patti e Valtur poi la vicenda Grigoli con l'Espresso ci abbiamo fatto un sacco di inchieste sulla vicenda d'Espar eolico fotovoltaico insomma comunque la borghesia si è arricchita grazie a Matteo Messina Denaro oggi come dire non è possiamo fare finta di indignarci e dire ah certo un criminale lo stragista cioè la Sicilia l'ha voluto l'ha nutrito e l'ha mantenuto questo brand Messina Denaro eh sì quando io dico che la mafia è borghesia mafiosa mi riferisco mi riferisco proprio a questo per tornare a prima e chiudere perché poi apriamo tanti file certo hai ragione io accuso i segni della stanchezza sulle narrazioni questo è un tema importante qualche anno fa invece è scritto un altro libro maledetto talmente maledetto che non ce l'ho qua neanche nella schivalia che contro l'antimafia a quale in realtà tengo molto nel quale insomma intanto tutta forma di lettera di resa a Matteo Messina Denaro nel quale parlavo proprio del nostro modo di raccontare la mafia cioè in questi anni che è successo rispetto all'antimafia al discorso pubblico dell'antimafia che noi abbiamo preso un modello un modello di mafia con un po' le pezzine dupare eccetera eccetera l'abbiamo adottato per tutti i racconti di mafia ma non è così dico noi tutti l'hanno fatto specialmente chi fa le fiction chi cura gli sceneggiati eccetera eccetera ti faccio un esempio Gomorra che è il libro che ha cambiato tante cose nel modo di raccontare la mafia insomma e ha fatto esplodere il caso Saviano insomma al di là delle polemiche e tutto però Gomorra il caso mondiale è del 2006 cioè io quando ci penso rimango un po' imparparpagliato 2006 è stato una vita nel 2023 17 anni da 17 anni noi siamo fermi a Gomorra cioè noi abbiamo preso Gomorra quando io dico Gomorra se chiudiamo gli occhi immaginiamo tutti Napoli Scampia le periferie su quella periferia abbiamo fatto un cartonato su quale abbiamo costruito un'infinità di narrazioni le suburre la mafia la mafia capitale quindi tu sostieni che abbiamo creato un modello e l'abbiamo moltiplicato all'infinito come se tutto fosse uguale io le chiamo narrazioni consolatorie narrazioni consolatorie si e sono tutta quella serie di stereotipi che noi raccontiamo per per consolarci la narrazione consolatoria più tipica contro la quale io lotto da anni come Don Crisciotte contro Morina al vento e infatti ogni volta che mi invitano poi se ne pentono è quella legata alle infiltrazioni della mafia al nord mi invitano ai convegni perché tu che fai inviti il giornalista siciliano giornalista di frontiera cioè è chiaro giornalista di frontiera e io comincio raccontando loro che è appunto una narrazione consolatoria perché si insiste tanto sul concetto di infiltrazione della mafia al nord perché comunica l'idea di un corpo malato del paese a Sicilia dove c'è la piovra con i suoi tentacoli e di un esame produttivo dove questi tentacoli arrivano e si infiltrano non è così cioè chi studia le cose della mafia sa che è così durante i 50 anni non è così ma che cosa ci stiamo a raccontare se Torino è la città d'Italia che dopo Palermo ha il più alto numero di beni confiscati se sono l'Eldrina aver costruito le grandi opere in Lombardia o in Piemonte ma senza andare tanto lontano caro Giacomo ti riporto indietro anche alla stagione degli anni 90 quando l'impero Ferruzzi scese in Sicilia ah la calcestruti certo la calcestruti e in quegli anni esatto e succede anche il contrario l'inquinamento imprenditoriale della mafia no ma attenzione tutto e tutto di più tu dici una cosa esattissima perché in quegli anni la mafia si ingigantì grazie agli imprenditori del nord che venivano qui a sedersi con i mafiosi per fare lavori pubblici il famoso tavolino degli appalti raccontato ma al tavolino non c'eravamo né io né tu c'erano loro c'erano loro e però tutto veniva giustificato in quegli anni in nome degli animal spirits no? in nome del liberismo in nome del il mercato che si compendono e così loro hanno favorito la crescita della mafia perché conveniva a loro e una delle inchieste meno raccontate che sono invece più interessanti della storia della ricetta riguarda una inchiesta in Campania che mi ha sorpreso molto perché racconta proprio dell'epatto fra i grandi marchi alimentari italiani tutti i grandi marchi quelli famosissimi vediamo in televisione e la camorra per imporre i loro prodotti nei supermercati del sud Italia cosa che è avvenuta anche in Sicilia cioè loro scendevano a patti e questa cosa gliela spiego sempre per dire ma cosa parlate di infiltrazione perché vi conviene ma non è così oggi noi sappiamo che la Sicilia è la terra più sicura d'Europa perché noi abbiamo i migliori investigatori i migliori magistrati i migliori corpi di polizia no un giovane ufficiale della via secondo te dove vuole andare a fare carriera a Monza o a Palermo sogna a Palermo sicuramente Palermo tutt'al più agrigento tra Parino Catania dico ma se io oggi volessi fare il riceveggio di denaro lo faccio in Brianza non mi controlla nessuno lo faccio nel Veneto o in Liechtenstein che tanto ormai le frontiere sono abbazzute sì ma lo faccio è chiaro modalità panzeri per capirci queste sono le narrazioni consolatorie insomma le potrei fare altri esempi che hanno distorto il racconto della mafia e ci hanno allontanato da quello che a me invece interessa però perdonami io devo prendere Giacomo perdonami le tue analisi sono veramente molto interessanti e devo dire anche lucide cioè proprio sul pezzo però a questo punto a maggior ragione io ti dico se la narrazione consolatoria è quella che ci ha come dire nutrito di fiction e sop opera che hanno amplificato come dire l'aspetto sanguinario e criminale di Cosa Nostra che comunque ha creato vittime stragi lutti e quindi va perseguito ci mancherebbe ma allora a questo punto io a maggior ragione mi sento preoccupato per il dopomestino di denaro perché se alla vigilia dei fondi del PNRR alla vigilia di un forte investimento europeo il fatto che non ci sia più il braccio militare di Cosa Nostra vuol dire c'è il rischio di dare campo libero a quella borghesia mafiosa mafia borghese chiamala come vuoi che vuole accaparrarsi il denaro e quindi la libertà dei nostri territori da Roma in giù e da Roma in su poco importa perché comunque come ci siamo raccontati confrontandoci non credo che si possano mettere dei confini a Cosa Nostra in questo momento né tantomeno all'Andrangheta o alla Camorra ma è già avvenuto già a Viena e per questo che parlo di Cosa Grigia perché parlo di nuovi sistemi criminali e facciamo un esempio concreto l'eolico nel 2008 nel 2009 no mi occupai molto di Eolico fu dei primi a parlare di Olo Mafia messina a denaro all'eolico eccetera eccetera tutto vero però poi a un certo punto quando ho deciso di occuparmi della mafia dopo la mafia cioè di Cosa Grigia ho deciso di vederci di andare oltre la cantata e di mettere proprio in mani e mi sono accorto di alcune cose straordinarie la cosa principale per esempio è che la famiglia mafiosa del Belice entrava nel giro dell'eolico unicamente per il profilo dell'estorsione del terreno terreno da liberare e per la base di cemento di caccia estruzzo per piantare la palla perché loro sono sempre condannati a caccia estruzzo un movimento terra insomma al loro destino tutto il resto dell'architettura straordinaria internazionale quindi la finanza globale internazionale di seminare i paleolici per avere contributi e poi non fare funzioni le pale perché tanto la rete siciliana neanche in grado di assorbire quella energia ma non l'ha ideata certo Messina Denaro l'hanno ideata altri quindi ho capito in quegli anni si parlava molto di Vito Nicastri come uomo di Messina Denaro Vito Nicastri è quello elettricista di Alcamo a un certo punto inventa il re del vento sannato anche da Financial Times se vado se ricordo bene Vito Nicastri dobbiamo dire che è stato per assolto dalle sue accuse di mafia ed è giusto perché tutti dicevano Vito Nicastri uomo di Messina Denaro perché c'era un famoso pizzino trovato esattamente il contrario quindi ribaltiamo la secondo me dobbiamo ribaltare la prospettiva è Messina Denaro uomo di Nicastri non so se mi sono spiegato no è chiarissimo da lì ho cominciato a rileggere a rileggere tutto a un certo punto poi mi sono accorto ultimamente questa cosa ci pensavo tantissimo che la famiglia mafiosa era tra l'altro quella classica quella di Messina Denaro era tutta avviluppata su se stessa nel tentativo di mantenere la latitanza e mi chiedevo ma quanto può durare una famiglia cioè una mafia che non fa più nulla se non proteggere se stessa per questo dico era una storia a tramonto e per questo dico ci sono fenomeni criminali che già esistono e che loro non possono concepire perché non ne hanno il know-how quando mi sono accorto dell'eulico delle società che gestivano che prendevano i contributi ma c'erano 42 società di almeno 30 paesi diversi in questo sistema di scatole cinesi se voglio utilizzare questa espressione idem vale per il resto quindi dico le mafie cambiano e sono già cambiate e dobbiamo approfittare di questo arresto di Messina Denaro secondo me per aumentare il supplemento di indagine secondo me ma secondo te secondo te perché tutti si concentrano sull'aspetto un po' banale della cattura il Viagra queste sciocchezze qua ma guarda allora ti dico credo sia un po' la caporetto un almeno l'inchiesta inseguire il Viagra di Messina Denaro allora ti dico questa cosa lunedì sera stanco morto a luna di notte mezzanotte eccetera eccetera mi accorgo che ho lavorato per tutti tranne per il per il tuo giornale mi metto a lavorare e poi non ho aperto anche un sito in giornale quindi vedo corriere.it se io non fossi stato diciamo una buttana vecchia della materia ma uno che apre corriere.it a mezzanotte no sa che hanno arrestato a fare il montale che aveva un orologio da 30 mila euro no uno che apre il giorno dopo Repubblica e cito questi esempi perché la dobbiamo finire sempre è vero hai perfettamente ragione in Sicilia per cui ci sono i grandi giornali noi siamo siti locali sono loro i primi che fanno queste cose che ha detto se uno apre Repubblica il giorno dopo scopre che hanno arrestato a Campobello un sessantenne che aveva il viaggio il viaggio capito se uno apre non so un altro sito scopre che andava alla palestra a casa o che la vicina oppure tutto l'esercizio sta facendo in queste ore vergognoso di trovare il vecchietto con la coppola intervistare che ti dice assolutamente allora noi tramite tramite Google con un mio collega più bravo di me Francesco Apperi qualche settimana fa abbiamo fatto proprio un lavoro su Campobello di Mazzara per un progetto di Google che si chiama Piccoli Borghi e Francesco è andato a raccontare a Campobello in particolare Torretta Granitola una spiaggia bellissima se non sbaglio una spiaggia bellissima e con grande sorpresa abbiamo scelto perché a caso devo dire in verità mi ha detto facciamo Torretta Granitola vediamo cosa c'è d'inverno in questa località e lui ha scoperto che d'inverno là addirittura ci sono artisti che vivono là c'è una comunità di ragazzi che fanno mi ricordo se reggaeton eccetera eccetera ma conosciuti a livello nazionale sì ma quella è la patria di Shagalab se non sbaglio andiamo un pochettino infatti tu sei più giovane di me sono un boomer insomma no ma io sono più boomer di te Giacomo non mettiamola sulla carta perché secondo me no però dico c'è vita c'è vita e ora non è che abbiamo c'è vita a Campobello di Mazzara oltre Messina Denaro questa è la verità c'è l'insente pensiamo in queste ore per esempio Castelvetrano dipinta come la Corleone ma Castelvetrano è una città che sta dando all'Italia dei talenti nella musica nel teatro nella recitazione penso a Ferracane che ha recitato anche in The Bad Guy o a Shadé Mangiarracina a proposito prima di chiudere Giacomo io però ti devo fare una domanda cioè non posso resistere certo io ma come è possibile che le grandi fiction anticipiano o plagiano la realtà perché succede sempre così ti faccio degli esempi banali allora nel 2006 la cattura di Provenzano un anno prima esattamente un anno prima l'unità esce fuori con un libro che si chiama La cattura di Binnu e raccontano i poliziotti che vanno in un covo di montagna a catturare il padrino ora io ho visto The Bad Guy che secondo me è divertentissimo perché non è soltanto un racconto sulla mafia ma è una cosa dark fatta anche con eleganza un racconto moderno è veramente una bella boccata d'aria una bella boccata d'aria rispetto alle cose sempre banali stereotipate sulla mafia ma a me insomma io quando ho visto le immagini della clinica Maddalena mi sono avute in mente subito le immagini del Ross che corrono per tentare di catturare il boss Mariano Suro mentre si sta facendo un'operazione cioè sinceramente sono rimasto un po' stupito hanno delle doti di preveggenze i registi c'è una cosa incredibile sì diciamo che c'è un dubbio antico qua parla il magnifico lettore non parla il mediocre scrittore c'è un dubbio antico della letteratura se la letteratura crea la realtà la realtà crea la letteratura fantastico stai stai in mezzo uno scrittore veramente bravo quando sa condire il sentimento del tempo quindi insomma e sa e sa comprenetrarsi chiaro che uno vede il bad guy pensa alle immagini di questi giorni ma io per esempio vedendo molte 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 scene questi giorni penso per esempio a film no Don't Look Up dell'anno scorso Don't Look Up la meteora che si abbatte sulla testa diventa subito Don't Look Up tra poco spunteranno le amanti di investire la denaro vedrai che andranno a grande il fratello e che questa è questa società in cui in cui viviamo insomma l'importante è esserci e raccontare ed essere sul pezzo e soprattutto non perdere questa occasione con l'appello che faccio a tutti di dare uno sforzo ulteriore di attenzione alle connessioni criminali con la speranza di fare ancora luce su tante cose che meriterebbero di essere indagate che purtroppo non sono indagate perché sta morendo il giornalismo lo dico perché stamattina volevo leggere il giornale Sicilia ma mi sono ricordato che sono abbonato la copia non è arrivata perché si sciopero una sciopero terribile le redazioni insomma decimate non resta più nessuno a raccontare il territorio e invece mai come ora bisognerebbe stare le cose perché è qui che accadono le cose io credo che sia necessario cercare di costruire una politica dell'informazione global cioè che abbia la capacità di una lettura globale ma partendo dai territori partendo dalla rete delle connessioni dei territori ma questo vale per la mafia ma anche per l'analisi politica l'accadono dei territori Giacomo io ti ringrazio ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato ovviamente nelle prossime settimane ti chiameremo nuovamente per fare il punto su quello che sta accadendo dalla regia già mi fanno segnali terribili perché abbiamo sforato ma avendo un ospite così preparato così importante come il mio amico Giacomo di Girolamo allora aspettiamo di leggere il tuo prossimo libro non lo spoileriamo immagino che tra poco siamo lì un grande abbraccio e tante in bocca al lupo per TP24 e per MC le tue testate di riferimento e ai colleghi nazionali non torturato la mattina e la sera perché l'avete distrutto in queste 48 ore non sapendo con chi parlare lì a Trapani c'è solo il numero di cellulare che peraltro ha risposto sempre a tutti anche a me che l'ho disturbato in un momento di grande pressione per questo Giacomo ti ringrazio il tempo che ci hai dedicato ma ci mancherebbe ciao buon lavoro grazie a tutti alla prossima puntata buon lavoro a tutti e buona giornata a tutti grazie a tutti